Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa 34esima puntata del podcast di Marcosbox. 34 come Gnome 3.34 Salonico, la nuova miglior release di Gnome che è stata rilasciata questa settimana. Questa nuova versione di Gnome offre diversi aggiornamenti e ottimizzazioni che ne migliorano le prestazioni, specie su hardware non di primo pelo. Ottimizzazioni che riguardano la scelga e che quindi coinvolgono il consumo delle risorse, le animazioni e quant'altro. Frutto anche del lavoro di collaborazioni con il team di Canonical che ha fornito diverse patch al riguardo, specie per quanto riguarda i driver e invidia. La novità grande e principale, oltre all'ottimizzazione, risiede nella scelga che adesso ha la possibilità di creare cartelle all'interno della panoramica applicazione. Quindi possiamo fare le cartelle con le nostre applicazioni preferite e dividercele come meglio ci piace. Non mancano poi che consigliate aggiornamenti dei programmi base di Gnome. Gnome 3.34 sarà disponibile a breve in molte distribuzioni. Se volete provare oggi stesso, vi invito a scaricare la beta di Fedora31 che è stata rilasciata questa settimana. Fedora31 beta che oltre ad offrire la versione 3.34 di Gnome, adesso offre anche una nuova edizione, l'edizione IoT che si va a affiancare a le edizioni classiche Workstation, Server e CoreOS. e versione di Fedora che è molto importante dal punto di vista degli utenti Linux perché rappresenta uno spartiacque. A partire da questa versione non c'è più il supporto a 32 bit, l'architettura integra a 32 bit. Questo significa che le versioni a partire, quindi Fedora31 e successive, non potranno più essere utilizzate su hardware che non supporta il 64 bit. Quindi hardware a 32 bit non potrete più utilizzare Fedora, dovete rivolgervi su altre distribuzioni. Nessun problema per gli utenti che utilizzano software a 32 bit su sistemi a 64 bit perché comunque continueranno a funzionare, perché i vari pacchetti che servono per tipo Wine e cose del genere continueranno a funzionare. Riallacciandomi a questo discorso, non so se vi ricordate che cosa è successo in casa Canonical. Anche Canonical ha deciso a partire da Ubuntu 19.10, che verrà riusciata nel mese di ottobre, di smettere di supportare i pacchetti a 32 bit. C'è stata poi una retromarcia, a seguito delle animate proteste da parte degli utenti, Canonical ha deciso di fare una cernita dei pacchetti che saranno mantenuti per non arrecare danno agli utenti, questa cernita si è conclusa ed è stata pubblicata finalmente questa lista che sono circa una cinquantina di pacchetti a 32 bit che continueranno a essere supportati su Ubuntu 19.10 e che Canonical si impegna a portare avanti anche su Ubuntu 20.04. All'interno ci sono pacchetti come Wine 32 bit o come Steam, quindi quelli che hanno fatto investire di più la comunità. Parlando di distribuzioni, questa settimana vi ho parlato anche del rilascio di Mangiaro 18.1.0 nelle edizioni Synamon. Un mio amico dava bene il numero di regrese perché stai regrese qua che cambiano in maniera repentina. Sapete bene, Mangiaro offre tre edizioni principali, XFCE, KDE e Gnome. Poi ci sono le edizioni mantenute dalla community. Fra le edizioni mantenute dalla community, quella con Synamon è quella che mi piace di più. Perché voglio segnalarla? Perché se non volete utilizzare Linux Mint per un qualsivoglia motivo, ma volete un Synamon fatto come si deve, rivolgetevi a questa edizione di Mangiaro, Mangiaro Synamon. Ovviamente c'è l'ultima versione di Synamon, c'è l'ultima versione degli X-Apps e dei temi di Linux Mint, c'è il supporto nativo di Snap e Flat Pack che è stato aggiunto all'edizione principale di Mangiaro e c'è la possibilità di scegliere quali suite d'ufficio preinstallare. Non manca poi un altro tool che è stato aggiunto che serve per selezionare quale layout avere per quanto riguarda il pannello delle applicazioni, in modo tale da avere tutto sotto... sia con il layout moderno che con il layout classico, quindi facendo lo switch rapido, così come accade anche su Linux Mint. Passiamo adesso a parlare della settima puntata dell'appuntamento, il mio setup, la rubrica di Marcosbox dove voi e tu potete condividere la vostra postazione informatica. Questa settimana il protagonista è Simone che ha tre computer, tutte e tre con D-Pin Linux. Andatevi poi a leggere su blog la sua esperienza. Vi ricordo che se volete condividere la vostra postazione informatica potete farlo inviandomi tutto sulla mail che trovate su Marcosbox, oppure potete contattarmi tramite Facebook sulla pagina ufficiale Marcosbox su Facebook, oppure se siete allergici ai social network potete contattarmi tramite la community telegram di Marcosbox, provvederò poi a postarli in media, ogni settimana è previsto un episodio. Vi invito a partecipare numerosi perché mi avete chiesto voi questa rubrica, è una rubrica per voi lettori. Riaggacciandomi a D-Pin Linux, di cui ne avevo parlato prima, questa settimana c'è stata una grande notizia che arriva dalla Cina. Huawei e Honor hanno iniziato a vendere in Cina laptop con D-Pin Linux preinstallato. La notizia è arrivata tramite Reddit, tramite il collettore, che ha confermato che i laptop con D-Pin sono venduti a un prezzo anche inferiore rispetto alla controparte Windows. Per adesso sono tre i modelli coinvolti, sono tutti modelli di fascia alta, di fascia importante, sono ultimi modelli. Abbiamo il Matebook 14 2019, il Matebook X Pro 2019, e l'edizione Magic Book Pro Ryzen, che sarà invece commercializzata, è soltanto attualmente in preordine, e quindi a breve sarà anche commercializzata, sia nella variante Linux che nella variante Windows. Ovviamente, ripeto, questi computer saranno venduti soltanto in territorio cinese, e il prezzo è anche inferiore di circa 38 dollari rispetto alla controparte Windows. Sapete bene, magari molti di voi potranno non sapere che il ban che è stato fatto da parte di Trump riguarda tutti quanti i servizi e le tecnologie statunitensi, quindi probabilmente Huawei se così si è voluta mettere le spalle al sicuro, anche per un eventuale ban che gli impedisca, ne so, di vendere computer con Windows, perché con il sistema operativo di Microsoft. Fa comunque piacere vedere che ha deciso di investire su D-Pin, è una distribuzione controversa, perché alcuni hanno paura di eventuali intrusioni da parte del spyware cinesi e quant'altro, comunque è una versione di Linux che è molto apprezzata anche da diversi utenti italiani, c'è una community molto attiva su D-Pin Linux Italia. Speriamo, speriamo che questa non sia soltanto una cosa che riguarda il mercato cinese, ma che Huawei e Honor decidano di vendere questi computer con D-Pin Linux anche sul territorio europeo. Vedremo se sono cose fioriranno, se sono cachi. Sapete bene. Restiamo a parlare di computer, e parliamo di computer 100% Linux compatibili, di produttori, questa volta tedeschi. Se siete alla ricerca di un computer 100% compatibile con Linux, date uno sguardo al sito di Tuxedo Computers. È un produttore tedesco specializzato in computer e notebook 100% compatibili con Linux. I PC sono costruiti individualmente e sono completamente configurabili, in modo tale da accontentare ogni tipo di oggetto utente, da quello casalingo a chi vuole una workstation professionale. Con ogni computer, desktop o notebook che sia, verranno forniti una serie di script di installazione per consentire il perfetto funzionamento con Linux. Questo significa, per esempio, che i notebook non avranno problemi di sospensione, tassi speciali, comunosità, stand-by, risparmio energetico, modalità aereo e quant'altro. Durante la fase di configurazione, R8 potete scegliere a personalizzare l'hardware, è possibile anche scegliere quale distro preinstallare. Possiamo scegliere tra Tuxedo S, che è una versione di Ubuntu LTS con buggi desktop ed è personalizzata dal team di Tuxedo, oppure farci preinstallare Ubuntu LTS oppure OpenSUSE, oppure ancora magari farci lo spedile senza sistema operativo, senza distribuzione Linux e installare quello che vogliamo. Qualche settimana fa ho provveduto a contattare i ragazzi di Tuxedo Computers per chiedere un codice sconto per i lettori di Marcosbox, perché moltissimi utenti mi avevano chiesto informazioni su questo produttore e ho deciso appunto di sfruttare la potenza di Marcosbox per chiedere un codice sconto e sono stato accontentato. Inserendo il codice sconto Marcosbox, al momento dell'acquisto si potrebbe beneficiare di uno sconto del 3%. È poca cosa, però è comunque già qualcosa. Spero che possa interessare a moltissimi di voi, perché mi avete contattato in passato e che avevate molto interessato a Tuxedo Computers, che chiedevate consigli a me su Tuxedo Computers, e ho deciso appunto di fare questo per voi. Ci tengo a sottolineare che non è una sponsorizzazione, non guadagnano un centesimo da Tuxedo Computers, l'ho fatto per voi e l'ho fatto anche perché apprezzo quello che fanno i ragazzi di Tuxedo Computers, perché dove c'è Linux c'è gioia, c'è Marcosbox pronto a supportare. Passiamo adesso a parlare di Firefox e del cambio di rotta nel ciclo di sviluppo di Firefox. Questa settimana è stata annunciata che praticamente si passerà da un ciclo di sviluppo di 6-8 settimane circa, che è attualmente il ciclo di sviluppo di Firefox, a un ciclo di sviluppo a 4 settimane. Questo significa che a partire dal prossimo anno avremo una versione stabile di Firefox al mese. La decisione è stata presa al fine di poter rimettere prima sul mercato nuove funzionalità. Si parte dal primo trimestre del 2020, le edizioni ESR non verranno toccate, saranno sempre da 12 mesi con 3 mesi di sovrapposizione tra la precedente e la nuova versione ESR, e è stato pubblicato anche una piccola tabella di marcia con le date di rilascio pianificate e su Marcosbox trovate maggiori informazioni. Concludiamo questa settimana parlando di una notizia che ha suscitato polemica, sconcerto, ed è stata anche ripresa da media italiani che non mi saremmo mai aspettato, tipo Repubblica o altri quotidiani online. Richard Stolman, lo conoscete, è il fondatore del progetto GNU, è il presidente e fondatore della Free Software Foundation, è sempre stato un uomo molto particolare che non l'ha mai mandato a dire, o naturalmente non avrebbe fatto tutto quello che ha fatto se era un uomo con peli sulla lingua, spesso però alcune sue uscite sono state giudicate fuori luogo, andate poi a approfondire, non vi voglio parlare apertamente all'interno del podcast, perché è un podcast che viene ascoltato da grandi e piccini. Ultimamente è successo che ha fatto alcune dichiarazioni sul caso Epstein, il miliardario statunitense che si è suicidato in cella dopo essere stato accusato di violenza sessuale e anche nei confronti dei minori. Lui ha fatto alcune dichiarazioni pubbliche che sono state pubblicate sulla newsletter dell'MIT, alcuni hanno segnalato qualcosa, hanno fatto pressioni e adesso Richard Stallman ha deciso, a seguito delle pressioni che gli sono arrivate sia internamente dall'MIT che da svariate altre fonti, ha deciso di rassegnare le sue dimissioni dall'MIT, dal CISAI di cui lui era membro, e di rassegnare le sue immediate dimissioni da Presidente e dal Consiglio di Amministrazione della Free Software Foundation. Decisione che è stata presa, Stallman ha voluto quindi tagliare ogni rapporto e evitare che queste sue dichiarazioni, peraltro se voi andate a approfondire la vicenda, sono state un bel po' ingigantite, alcune parole sono state anche rette in maniera non proprio consona, quindi molte delle problemi che sono nate a seguito di queste sue parole sono anche problemi che sono state ingigantite, sono state anche non pronunciate da lui queste parole, però è un personaggio pubblico, è un personaggio famoso e quindi non può parlare come noi che parliamo al bar tra di noi amici, che magari diciamo cose ben peggiori, ma lui ha una certa istituzionalità che deve mantenere, e questa volta gli è costata gara, ma gli è costata gara perché, vabbè, alla fine era Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione della Free Software Foundation, ma era una carica diciamo così più che altro onoraria perché stava sempre in giro per il mondo a professare il software libero e i pericoli del software proprietario all'interno di tutto il mondo, e niente. A me dispiace molto di questa notizia, Saman comunque non si ferma e continua a fare il suo lavoro di evangelizzazione, speriamo che col senno di poi, fra qualche anno, vedremo in ottica diversa queste sue parole. Comunque c'è da apprezzare il fatto che, per non arricare danno all'immagine della Free Software Foundation, abbia deciso appunto di abdicare, diciamo così, perché di fatto era una monarchia presieduta da lui, la carica di Presidente. Vedremo in futuro che cosa accadrà, vedremo se ci saranno altre ripercussioni per queste sue parole. Andatevi comunque poi a leggere tutti quanti i game che vi ho postato su Marcosbox, dove ci sono le discussioni in inglese, andatevi a farvi voi un'idea, perché all'interno del canale Telegram si è molto dibattuto su questo, sia sul canale Telegram di Marcosbox che anche su altri privati. Ci sono state molte discussioni, c'è chi è a favore, c'è chi è a contro, Starman e le sue parole, c'è chi lo accusa e chi lo difende. Fatevi voi la vostra opinione, però vi invito a leggere tutto quanto, non so fermarvi solo alle prime dichiarazioni. Bene, con questo concluso sono già 16 minuti, pensate un po' voi, la settimana scorsa ho fatto una mini puntata, questa settimana ho una puntata lunghissima. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci ascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox e vi ricordo che potete ascoltare il podcast di Marcosbox tramite Anchor, tramite Apple Podcasts, Spotify, TuneIn, tramite Alexa e tra qualche giorno, se tutto andrà bene, anche tramite la nuova skill di Alexa che è comandabile con la voce, quindi non dovete più aggiungere al sommario quotidiano ma potete evocarla quando volete. Alla prossima, ciao ciao!